Benvenuti su Among Us Oggi sono su Among Us nella mappa The Airship Stiamo aspettando giocatori, ok The Airship, e come vedete siamo pochissimi Quindi sarà molto difficile Io vorrei essere molto impostore Ma non lo sono mai, come in Minecraft Murder Mystery Ok Per favore, per favore, per favore No, comunque l'altra volta, ve lo ricordo ragazzi Cadaveri su cadaveri su cadaveri su cadaveri Ogni riunioni, ogni secondo, io non impostevo più Allora, i risultati Scusate se anche io vedo nero, non è colpa vostra È colpa dello schermo Aspettiamo Ma dai Cavolo Archivio Ma quanti siamo? Siamo in pochissimi Pulisci gabinetto Perchè c'è scritto pulisci gabinetto? Noi facciamo le solite tasche E non mi parlo un pochino E che sono difettoso Ok ragazzi Quanto 8 Ma è tutto uguale, guardate Neanche un'incrocia Magari è qui la tasca Che schifo ragazzi Oh, è ora Non ne buttevo più di questo Plac plac Ancora cavi Oh 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 Oh